Fermato sullo 0-0 in casa dall'Atletic di Bilbao, si rifà sul difficilissimo campo di Sam Mames con questo splendido gol di Rash. Cross di Kennedy, gran colpo di testa di Rash in anticipo su Goico Ecea che alle sue spalle, Zubi Zareta è battuto. Rivediamo il gol del centravanti gallese del Liverpool che come abbiamo visto si è segnalato particolarmente anche nella nostra classifica del Bravo 84. E' stato il primo in pratica della tappa di oggi, ecco rivediamo l'azione di Kennedy sulla estrema sinistra, salta Urchiaga, mette verso il centro e guardate Rash come si alza e come gira con violenza la palla in rete, veramente un gol da manuale per quello che riguarda.